Metafisica Alcab è un gruppo di persone straordinarie, anche un'occasione straordinaria per gli studenti che sono qui con noi in questa Factor, che è la Domus Academy. I studenti sono i beneficiari del Club Metafisica Alcab è un'opportunità molto grande per loro per incontrare e ascoltare le idee di molti diversi persone, guardando il design da diversi perspektivi, lavorando in design in molto diversi modi, che spero che gli studenti abbiano le sue idee particolari e perspektivi per il design. È stato strano per me, perché non era il modo normale di avere classi. È come quando gli studenti e gli studenti sono in particolare della stessa scuola, e siamo in la stessa scuola, e quando facciamo questo e abbiamo questa discussione, è più casual, e è più facile parlare con loro sui tematiche che semblano sensibili. A volte, con il Club Metafisica, questi sono tipi di letture che sono sensibili e sono molto sensibili in società. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.